si va rosa e chiudi gli occhi attenta bene anche questa era insomma noi abbiamo rosso ciao grazie di essere qui come posso aiutarti? ok ti serve un taglio della barba d'accordo e come lo vorresti? ok la barba d'accordo perfetto farò sicuramente del mio meglio come forse già posso far qualcosa per far rilassare ancora di più ok cominci con lozione lozione per il viso che lenisce la pelle e ammorbiccia e ammorbiccia il pelo e i pollicoli in 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 molto bene puoi chiudere gli occhi se vuoi e comincio posso chiederti se vorresti anche che ti facessi un pochino le sopracciglia anche l'interno ok allora ti proteggo un attimo gli occhi andiamo ad ammorbidire anche questa sono andata ad ammorbidire anche questa si senti che buon profumo molto delicato ma anche un po' delicante buono legge molto adesso vado con questo panno leggermente umido e caldo spiega il suono vado a mettere in posa la lozione in modo che sentirei che si scalda un pochino perché andremo ad ammorbidire ancora di più la zona ok andrò a metterlo sia su una barba e bocca sia sulle sopracciglia quasi completamente e lascerò praticamente solo il naso libero ok ok molto bene adesso intanto vado a tirare un pochino fuori gli attrezzi intanto che tu ti riscaldi e ti vado a mettere anche la mantellina attorno ai vestiti in modo che non ti tieno fastidio i peli che cadono ok il pettine il rasoio il rasoio il rasoio elettrico lo spazzolino il pennellino le forbici che non si sa mai e la mantellina ok adesso che è tutto pronto tolgo tolgo lascio tua mano come ti senti ok già il relax sto arrivando molto molto bene molto molto bene adesso appunto come ti ho fatto vedere tra tutti i miei strumentini qui e vado comincio in realtà con la schiuma da barba vado a cominciare a spoltire perché questo barba è effettivamente bella lunga però li stagni tanto taglio vado a sfoltire a togliere la la maggior parte dei peli con questo rasoio elettrico estremamente delicato non ti preoccupare e alta tecnologia come vedete un design innovativo e minimal qui nulla è lasciato ai casi molto bene comincio se vuoi chiudere gli occhi se vuoi puoi anche addormentarti per me anzi mi fa piacere sapere che ti sta rilassando ok allora comincio facciamo ok poi attravo attravo l'alba l'alba un po attravo e sent pian piano ok ok vado sul collo molto bene molto bene ok non voglio essere un'altra zona con dei peli peli comincio col me l'altro lato che stai ok si sp 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 ok and we go in line going out and going out and ne avvicino un secondo ok, posso controllare un attimo? qui ci siamo qui ci siamo bene, adesso che abbiamo fatto una bella spoltatura abbiamo spoltito andiamo ad applicare la schiuma da Barbie i nostri prodotti sono sempre molto delicati adatti anche alle pelli più sensibili e sono caratterizzati anche dal perché producono dei suoni molto piacevoli si, li vendiamo qui ce li possiamo fare dal nostro laboratore perché ci teniamo tanto per un prodotto unico ok allora vado chiudi un attimo gli occhi perché vado anche sopra unico è unico il adesso vado ad applicarlo in un'altra zona sul collo qui sotto Ok Senti che profumo Veramente buono Almeno io lo trovo veramente buono Adesso Del mio magico Astuccino Vado a prendere Il pennello Senti che bel suono Senti anche com'è Delicato, sì Molto, molto delicato Solo il meglio Quindi Vado A mescolare Un po' la schiuma E vado a fare movimenti circolari E creare ancora più schiuma Ok Sarà molto rilassante E' un picco Modo Dio Senti Attenere Le buoni Un pelo Quanti Sinen Sì, ok, sottra, ok, 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 ok Sì, di pronto abbiamo fatto il collo con questo pennello Sì, il pennello sul collo è una coccola incredibile Lo so, lo so, lo so, lo so Le circolari, sì, ok Adesso che abbiamo attivato tutta la schiuma Come vedi la schiuma è trasparente quindi io riesco anche a vedere oltre, diciamo così Vado prima con il rasoio Quello un pochino più Vado adesso Prima con il rasoio un po' meno preciso Le parti in cui la barbara sarà un pochino, appunto, ci sarà ancora E poi con quello di precisione andrò a togliere, invece, a fare i lavori precisi Quindi Però non ti preoccupare, è rimata comunque un po' di parti in mente E ha una mano delicatissima Ma, ma fermissima Per questo E poi la parte in mente E' un po' di parti E' un po' di parti e anche sotto scusami se mi vedi un po' a pollice ma devo guardare bene posso chiederti se ovviamente mi vorrà rispondere? sì questa conciatura è per un'occasione speciale mi fa piacere è un cambiamento importante immagino mi fa molto piacere adesso vado con questo rasoio di precisione come vedi anche il pennellino un pochino è morbido dell'altro per ragioni di funzionalità e adesso mi avvicinerò per forza di cose perché devo essere precisa comincerò dal spazio fra le sopracciglia e a definire le sopracciglia veramente pochissimo e non andrò a deformare assolutamente niente ok ok vado qui scusami un po' anche sotto e l'altro le sopracciglia un attimo un attimo e anche sotto ok ok bene e adesso vado a togliere definitivamente i baffi e vado a coltimare e definire i bordi molto bene benissimo io sto facendo diciamo la forma che ritengo più adatta è la tua forma del viso abbastanza occhio comunque spero sia di tuo gradimento visto che non avevi riferimenti vado un attimino anche sul collo ok ok adesso sempre con lo spray vado a risciacchiare la risciacquare la schiuma ok molto bene che gli occhi ok vuoi aprirli come ultimo step vado appunto a toglierti e sciacquarti lo schimo ok ok bene vado a togliarti la mantellina bene guarda ti porre lo specchio ok e sono contenta sono contenta che ti piaccia il risultato visto che ti piace il risultato e spero vorrei consigliare il nostro salmone ti lascio il mio biglietto da visita vip barbershop un no vip non è vuol dire veramente incredibilmente piacevole certo questo è un bel suono che ti aspettavo è super bene bene prima di lasciarti andare volevo solo chiederti se mi lasciavi un feedback sul nostro sito sulla nostra pagina su cosa ti è piaciuto cosa non ti è piaciuto cosa avresti voluto di diverso magari un servizio in più ok tutto ciò che può essere utile a migliorare il nostro servizio è appena a 100 ecco noi siamo sempre pronti ai miglioramenti ecco bene, io ti ringrazio davvero e ci vediamo la prossima volta se vorrai d'accordo, arrivederci buona serata, buona giornata eccoci qui la nostra attenzione del caffè allora intanto mi devi decidere che caffè vuoi ho questo caffè chiacciato ho il cappuccino con un bellissimo, bellissimo disegno ho un cappuccino alla fragola molto particolare ho anche questo limone ho una cioccolata calda poi ho un caffè un caffè un caffè macchiato ho un caffè espresso sempre dei chicchi ok vuoi caffè macchiato e dimmi con che latte vuoi abbiamo latte di soia latte di mandorla latte classico o latte da viena latte da viena ok allora prendo questo quindi ok metto il caffè metto il caffè ecco il tuo caffè che è il caffè ecco il caffè anche io tu vuoi la panna? ciao 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 come stai? sono contenta? molto bene? ti do il benvenuto in questo posticino speciale in cui tutto ciò che utilizzo è in legno pensavo di offrirti un caffè ti può andare? prendo subito la macchina e vado eccola qui io la trovo di una dolcezza estrema come vedi ha tutto allora abbiamo quattro diverse scelte posso avere per te il caffè classico questo qui si classico, robusto, abbastanza forte, molto cremoso, molto buono posso avere vaniglia, questo qui questa è vaniglia, caffè aromatizzato alla vaniglia poi per te posso avere caffè aromatizzato al cacao, molto molto buono, questo te lo consiglio e come ultima opzione invece se non ti va la caffeina o anche la capsula per il leggo allora quale ti ispira? ok cacao ovviamente è un pochino più amaro forse vaniglia può fare più per te ok va bene che vaniglia sia allora metto la mia tazzina prendo la vaniglia come modalità posso fartene solo uno corto sono uno lungo oppure posso farti anche due caffè corti o due caffè lunghi dimmi te uno ok lungo guardiamo guardiamo perfetto ok apriamo il tastino e aspettiamo il caffè no non è bollente no non è bollente ok ecco qui il tuo caffè vorresti per caso ve lo zucchero ok questo è zucchero di canna quanti cucchiaini? due cosa? un e mezzo un e mezzo un mezzo ecco qua lo vuoi manchiato? ok allora ti verso un pochino di latte basta ecco qua ecco qua il tuo caffè attenzione che scotta ok a te a te ecco qua te lo lascio qui bene adesso che ti gusti il tuo caffè alla maniglia macchiato volevo truccarti sistemarti un pochino ti va? bene molto bene allora prendo tutti i miei attrezzi allora 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 intanto io comincerei se vuoi ti do una spruzzatina di profumo no? hai un buonissimo odore non è non ti preoccupare però secondo me questo profumo potrebbe piacerti molto guarda che amore c'è un orso mi sembra immagino mamma orso col suo piccolino sulle spalle provo a sentire ti piace? ok allora molto bene ok e te lo metto un pochino qui sotto al cuore d'accordo? molto bene sono davvero contenta di piaccia adesso adesso ti tiro un attimo indietro i capelli e te li leggo con questo elastico con questo elastico ok 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 benissimo ok da cosa vuoi cominciare? io comincerei dagli occhi per i tuoi splendidi 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 occhi a questa palettina a questa palettina cipria il cipria chiaro e il rosso il rosso in realtà potrei anche saltare sulle guance di metà ok quindi voglio un po' di rosina e un po' di viola tipo un po' di rosina qui e il viola invece ai lati per dare profondità nello sguardo ok l'apertura è molto pratica e ho anche un bel pennellino quindi comincio e prendo un bel po' di rosa lo scarico lo scarico e gli occhi ok molto molto bene è rilassante e sono contenta benissimo stupendo 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 e adesso prendo anzi adesso vado sull'altro occhio si dopo ti ti faccio vedere com'è scarico un pochino guarda che va rosa e chiudi gli occhi ok 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 i due occhi sono già bellissimi così ma questa rosa li va proprio vuoi fare un pochino sul lato ancora perfetto adesso vado a prendere il viola e vado nell'angolino nell'angolino e vado nell'angolino te lo metto te lo metto anche un pochino sotto no vuoi solo il mascara lì ok non c'è problema te lo sfumo ok guarda sei sei un incanto sei un incanto vado con l'altro occhio chiudi bene cerca di non muoverti ma come ti sta bene veramente incredibile non pensavo non pensavo davvero di potesse stare così tanto bene dopo riprendiamo questa palettina per il blush adesso matita questa matita va benissimo sia per le sopracciglia sia per l'occhio per fare un pochino di eyeliner per riempirlo un pochino all'interno sia questo non direi proprio nero direi più un marrone molto scuro e vado subito a riempirne un pochino le sopracciglia che sono già perfette così andiamo solo un pochino a valorizzarle ecco molto bene molto bene passiamo all'altra com'è? è rilassante? bene 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 adesso vado a riempirti un pochino qui sotto per poi mettere mascara ok? quindi ti alzo un pochino l'occhio benissimo anche questa non la vuoi sotto? la vuoi questo ok? allora anche l'altra parte sopra e anche sotto benissimo direi 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 di passare al mascara quanto è bellino è nero come vedi scarico via l'accesso guarda in basso anche giù un pochino Ora guarda un vaso Quiere il altro che guarda un vaso? Toc, 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 toc Up, up, up E anche sotto Dove è l'altro Vuoi vederti intanto? Guarda, ti faccio vedere Anche solo A parte che sei benissimo Poi questo mascara ti fa delle ciglia Questo specchietto Fa vedere il mio make up ho messo Direi bene, no? Ti lascio vedere Ti piace per ora? Si, guarda pure Bene, 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 bene E sono super super contenta Ok? Te l'avevo detto Rosa che hanno insieme Bellissimi, bellissimi Ok Adesso Mettiamo un po' di cipria Anche questo è veramente carissimo Anche questo è veramente carissimo Il mio make up Ha una parte color leno Una parte rosa E dentro A questo A questo cosino Non so come si chiama Ok Prolevo Un pochino di cipria E vado Sperattutto nelle zone In cui Tendi un pochino a lucidarti Ok Alla vado Un pochino Un pochino sotto gli occhi Anche sotto l'altro Ok Ok Un pochino sulla fronte E un pochino anche sul mento E adesso direi che Possiamo mettere un pochino di blush Abbiamo quasi finito Vado a metterlo con le dito ok Prendo questo rosso Che in realtà Non sarà così rosso Solito guance E vado a picchiettarlo Con questo dito E vado a picchiettarlo Ti da un aspetto fresco Ti da un aspetto fresco Così Ok Stupendo 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 Adesso E' arrivata l'ora Del tocco finale Il rossetto Come vedi Come vedi E' Un rossetto Rosso Un pochino caldo Ma in realtà Risulterà più come Un burro cacao Ecco Poi in realtà Te sembro più aranzato Di quanto sia Veramente Una volta sulle labbra Ok Vado Ok Ti da labbra morbide Benissimo Vado un pochino Coletto Ad ammorbidirlo Questo E' Il numero 0 5 Non so Il pack in canna Sembra rosa Ma E' solo il pack In tutta la linea Vedi che tutti sono rosa Vedi che tutti sono rosa Volevo solo darti un ultimo tocco Per il video Anche Phone E' Pettine Sì Noi serviamo Serviamo Facciamo Servizio Per l'occhieri Ok E' Pensavo Di Diciamo Sistemarti Un pochino Un pochino I capelli Indietro Ok Un pochino con l'aria Un pochino con il pettine D'accordo Ok Allora Va bene E vado E vado Benissimo 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 In realtà In realtà Se però io avrei Uno che ti vissi Non tocco Solo se vuoi Solo se ti va Potrei applicarti un pochino lo smalto Molto velocemente Ok 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 Anche questo smalto rosa un pochino più sul lilla Molto molto carino sì Tipo il colore del boccetto Questo è il numero otto Sì basta una passatina veloce perché in realtà è un pochino un rilesso Ok Dammi pure la mano Aspetta Aspetta Ok benissimo Dammi pure anche l'altro Ok Dammi un attimo gli occhi eh Ecco qua Si asciuglio un attimo Bene La nostra piccola sessione di bellezza è finita Io spero ti sia piaciuta Io spero ti sia piaciuta dammi una buona recensione Se ti è piaciuta se pensi che il nostro servizio sia stato rilassante Ah Dammi pure la tazzina Ok Grazie E Sì Magari ti aspetto per il nostro servizio di parrucchieri O peraltro veramente speriamo di tutto qui Grazie a te Ciao Buona giornata Ciao Ciao Per il nostro servizio di parla Sì Allora Siamo liberi Ok quindi taglio i piga. Ok Allora potremmo essere liberi fra un quarto d'ora Va bene un quarto d'ora Ok Ah ok, sta già arrivando, va bene, allora ne dobbiamo qualcosa da leggere D'accordo, allora ci vediamo subito, arrivederci a presto Buongiorno, un postale del tu, ok, perfetto Allora, quindi dicevi al telefono che volevi semplicemente un taglio Con una piega, ok, decideremo se mossa, liscia, d'accordo, va bene Allora, quindi dovrei aspettare qualche minuto, ma pensavo di darle per passare il tempo Questo nuovo libro che ci è arrivato si chiama Cantautrici, le più grandi da tutto il mondo E come vedi è appunto un libro che racconta la storia delle più grandi Cantautrici Ed è illustrato dall'illustratrice che a me personalmente piace tanto Guarda qua che meraviglia E questo esempio è benissimo Quindi spero, spero le piaccia la lettura Noi riteniamo che sia una lettura perfetta anche per passare un pochino al tempo Qui dal parrucchiere per essere qualcosina di così anche bello esteticamente E magari può prendere anche spunto per una pettinatura, perché no? D'accordo, allora Ti lascio qui il libro E ci vediamo fra un po' Ok, eccomi di nuovo qua Spero tu abbia dovuto aspettare troppo Non ti sia annoiato Ok Allora dimmi, che tipo di taglio vorresti? Perché sul libro hai trovato anche qualche ispirazione Ok, bene Fammi pure vedere Ok Ti piace sia questo look Lady Gaga Ok, molto voluminoso quindi Ok Cerchi volume Sia Ok, fammi vedere Però anche Simile a questo Ok Va bene, va bene Entrambi sono tagli comunque molto moderni E ho capito Resti la mia di mezzo comunque Perfetto Questo posso metterlo via O lo vuoi leggere ancora? Ok Sarà sempre qui comunque quando vuoi Ma fammi vedere un pochino i tuoi capelli allora Va bene Vedo che le punte Le punte sono un po' rovinate Senti, sono un po' secche Però del resto Mi sembrava abbastanza messi bene Vorrei essere un taglio un pochino drastico Un po' scalato Ok, quindi come va adesso con le apex Porti Porti la linea in mezzo Porti la linea di lato Ok, nel mezzo Va bene Va bene più o meno questa altezza D'accordo Benissimo Allora Non mi resta che cominciare Non vedo l'ora di vedere come stai Sarà comunque un bel cambiamento Prima di cominciare ti chiedo Di metterti Il pavallino Scherzo Però la mantellina così Non piegate niente Perfetto Comincio 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 col bagnarti i capelli Ovviamente Visto che Non mi hai chiesto né shampoo né nulla Ho questa acqua Demineralizzata Quindi È un'acqua Diciamo così Molto pura Che Mi permette Mi permette Di non lasciate Assolutamente Le sue capelli Quindi i tuoi capelli Risulteranno Liscissimi E lucidissimi Ok Shaker un pochino Per mescolare Tutto bene Ok Sprotto Tutti i tuoi capelli Ok Anche molto bene Solle punte Anche dietro Per bene Sono quasi Ok Benissimo E dopo andremo Pian piano Ancora In umidire Certe zone Le saranno asciugate Lasciami pettinare Bene Ok Comunque posso dirti Hai un colore naturale Di capelli Veramente Incredibile Hai mai provato A cambiarlo Hai fatto bene Era proprio Una curiosità mia Se magari Ti è sempre piaciuto A volte Hai voluto Cambiarlo No Vai benissimo Non so Quante persone Vengono qui Chiedendo Il tuo esatto Colore Quindi Tu che sei naturale Tra l'altro Tra l'altro è Tra l'altro è Una buonissima base Anche Per altri colori No No Non a cambiare Io Partirei proprio Dalle Banks Ok Quindi Fammi fare bene La riga Ok Allora Molto bene Adesso Dall'altra parte Ok Benissimo Mi hai già guardati Già Ok Le vuoi un pochino Più corte Perché Dipende Anche se Di solito Te li fai un po' mossi Se rimangono lisci Allora Se ti saluto Te li fai un po' mossi Anche solo come Ce li ho io Adesso Ti conviene Che siano Un pochino Più lunghe Ok Vedrai Allora Continua un pochino A scalare Molto bene Ok Lasciami ripagnare Un secondo Eccoci qua Ok Allora Lasciati vedere Ok Adesso Andiamo Ad accorciarli La so Sono belle Queste forbici Ce li abbiamo Solo noi Così Ce li siamo Fatte fare Apposta Perché penso Siano Le migliori Sul mercato Ok Allora Cominciamo A Tagliare E cioè Guarda quanti I capelli Ovvio Come mai ho preso Questa decisione Di Tagliarli Così tanto Ogni tanto Cistosi Ma purtroppo Te l'avrei Consigliato Ma sono Sono In alcunque Troppo poco Per Per tonarli Sarà Per la prossima Volta Non va Niente Ok Sai che Mi piace Tantissimo Fare tagli Così Netti Perché Mi sembra Di dare Inizio A una Nuova Avventura A una Nuova Era E ti dico Ciò che Starai Di un Bene Esagerato Assolutamente Ne sono Sicura Allora Faccio Un attimo Pugniamo Questa Part E Bene Eh sì Li Li Ripagnano Spesso Adesso Facciamo Delle Mini Mini Scalature Da questa Parte esta Faccio Vi Jo Vi 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 prima di fare anche l'altra parte vorrei un attimo pulirti perché c'è qualche capello sul tuo collo e anche un pochino sul tuo viso quindi ti vado a pulire un attimo ma come stai bene io lo vedo già lo vedo proprio già esalta tantissimo la tua forma del viso e secondo me ti illuminerà tanto anche questa nuova taglia di capelli ti darà più freschezza ogni tanto la sua partita ci sta è come fare decluttering ogni tanto ci sta togliere il suo perro adesso bagno anche l'altra parte è proprio quasi finito questa parte ovviamente ok vado anche un pochino dietro dietro, dietro, dietro fammi controllare anche qui ok adesso ti ripetino ancora un pochino siamo pronti all'asciugatura prima di asciugare prima di asciugare ti metto un pochino di termoprotettore in questo tubo lo metteremo anche come l'uzione finale diciamo che sia rinforza sia i capelli sia la termoprotettore ok ciao 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 io vorrei utilizzare il phon con il diffusore questo perché mi permetterà di cominciare a dare un pochino di volume ai tuoi capelli e poi andremo a fissare meglio i boccoli e a definirli con la piastra ok? va bene allora ok? 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 adesso che i tuoi capelli sono appena asciutti andiamo a fare lo styling finale ok? ok? allora come scusa? ok? 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 ecco Questo si toglie e si può mettere anche il phon normalico, si può tenere così, esatto. Adesso, allora intanto vorrei andarti a togliere ancora un pochino di capelli che hai qui, perché anche col phon un pochino sono, diciamo, volati alcuni capelli che magari erano rimasti attaccati, ma in realtà erano tagliati. Ok, un po' sulle spalle, un po' sulle la malla. Bene, e poi vado a rimettere il nostro oglietto termoprotettore. Perchè lo serviamo anche con la piastra. Ok, ne metto un pochino di meno brunco, un pochino non è rimasto, però si è asciugato, non avrebbe messo in entro quelle cose. Ok, non te lo sto neanche ripetere. Anche questo, se sei interessata, è della marca Beautiful Hair. Questa piastra è fatta di una ceramica particolare, per cui veramente rovina pochissimo il capello, visto poche piastre così performanti. Ok, allora, adesso andrò a prendere un pochino, giocca per giocca, e andremo a fare, andremo a definire i bucchi, ok? Quindi, dall'altra parte. Sì, come vedi li faccio relativamente, velocemente, perchè li abbiamo già comunque passati col fone, lavorati col fone. Ok, allora, vado dietro. Sto cercando anche di fare dei boccoli leggermente diversi tra di loro, a volte anche alternando, a volte facendo da una parte, a volte facendo dall'altra. In questo modo verranno più naturali, esatto, ti stanno venendo un pochino più mostri dei miei, perchè poi caleranno un po'. E con i prodotti che ho utilizzato dovrebbero tenerti bene anche 2-3 giorni, anzi 3 giorni. Ok, fatti vedere. Ok, fatti vedere. E adesso vado a fissare il tutto con un pochino di lacca. Ficati, non si noterà quasi, non ti preoccupare. Anche questo è fatto. Però è un pochino di caldizio. No be simple perfetto adesso vedo l'ora che tu ti possa guardare per bene ok ecco qua allora cosa ne dici? sì ne sono contentissima speravo fosse esattamente quello che volevi bene 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 allora io ti ringrazio veramente tanto per essere per esserti affidata a noi visto che era anche la prima volta e spero ti avremo convinto di tornare ma grazie a te vai a splendere con questo tuo nuovo look ciao come stai? che bello che ti abbia fatto ritorno qui da me sono contentissima che il servizio all'altro modo ti abbia soddisfatto allora dimmi 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 oggi sei qui per ok un bel trucco benissimo con i miei prodotti speciali ok allora prima di tirare fuori i trucchi i trucchi i trucchi i trucchi i trucchi ti chiedo se hai voglia di qualcosa da bere posso avere del tè posso avere del caffè posso avere anche uno snack se vuoi ok sì come vedi ho proprio ho fatto un upgrade della macchina del caffè ok allora intanto ti offro qualcosa va bene eccoci arrivati nella zona bar ti faccio scegliere che caffè vuoi ti posso offrire una prela un iced coffee iced coffee un cappuccino ma anche io con il latte che desideri c'è anche una bevanda vegetale se vuoi poi ho un caffè lungo americano o un espresso classico ti faccio un cappuccino che fa anche il trucchi questa è la nostra macchetta del caffè come vedi ha i macchinari in cui metti i chicchi di caffè vedete c'è il caffè posto no no ok e qui posso farti anche 何れ tutte un th hai l'ho hai 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 ti faccio una tazza da asporto così poi te la tieni vicino adesso lo avvio adesso ti faccio scegliere il latte abbiamo il latte classico poi puoi scegliere fra queste bevande che sono tutte fatte in casa da noi abbiamo il nostro latte di soia latte di mandorle queste sono mandorle pugliesi e latte d'avena anche questa facciamo noi tutti e tre fanno la schiuma quindi dimmi semplicemente te facciamo mandorle fantastica scelta questo avrò un sapore di vino e lo metto ecco ed eccolo qua il tuo cappuccino con latte di mandorle ti ho fatto anche questo disegno scusami è molto finito ti metto anche la protezione in modo che tu rischi di scattarti e a te ti posso chiedere anche se vuoi uno snack abbiamo a disposizione oggi barretta barretta bene cioccolato buonissima tutto fatto da noi brownie con gozzi di cioccolato amo il cioccolato si vede si senti pure cookie cookie al cioccolato stile americano oppure cookie con fiocchi d'avena e mirtilli ti piace questo? ok anche questo bene adesso direi che è arrivata l'ora del trucco e allora spero che il caffè latte, il cappuccino e lo snack siano davvero il tuo gradimento mi piace tantissimo anche ricevere un parere onesto da te senza paura perché ovviamente qui ci vogliamo sempre migliorare quindi non ti preoccupare ti piace? ti piace? andiamo a posizionare tutti i trucchi eccoli tutti qua eccoli tutti qua andiamo a metterli e lo specchietto e lo specchietto qui dietro useremo alla fine ok non c'è più niente allora come prima cosa vado a tirarti un pochino sui capelli con questo elastico con questo elastico troppo bellino ok 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 perfetto adesso che i tuoi capelli sono indietro posso cominciare? cominciamo cominciamo dalla base da un po' di fondotinta ok 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 guarda che bello questo disegnino questo è un fondotinta liquido quindi ne metto un pochino sul palmo della mano prendo il pennello e vado a distribuire questo fondotinta è molto bello, bellissimo vediamo l'altro palmo vediamo l'altro palmo un pochino sui lati sotto ok benissimo dopo questo bel fondotinta andiamo 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 è un trucco semplice comunque ok andiamo 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 con vuoi prima fare il viso agli occhi? facciamo il viso ok andiamo con questo doppio prodotto questo doppio prodotto è molto particolare perché da una parte è blush dall'altra è cipria qui è la cipria e qui è blush quindi andiamo andiamo con la cipria andiamo andiamo con la cipria andiamo la cipria e qui fanno un po' sulle fronte e alzano un po' da tenere sotto controllo il mento, il naso, tutto, tutto, e un po' che torna il naso, ok? quindi hai soprattutto la zona D, molto bene, poi adesso blush, questo blush ti sembra molto chiaro ma in realtà andrà un pochino ad adattarsi al colore della tua pelle grazie al tuo pH quindi andrà ad armonizzarti, ad armonizzarsi col colore della tua pelle, devo parlare ok, ne basta poco ok perfetto adoro troppo questo prodotto perchè lo tiene in borsetta, ti aiuta sia a tenere sotto controllo e lucido, sia a dare un po' di colore alizio ok, questo è un po' di colore qui la mia palettina ok, allora abbiamo rosso, rosa, viola e giallo ovviamente io posso anche mixarli e creare nuovi colori quindi vuoi un po' di verde e un po' di arancione posso farti tutto allora io pensavo a, puoi dimmi te se ti piace a una palpebra rosa, un po' gialla e un po' rosa e un bel eyeliner viola ok, quindi facciamo tipo giallo qui all'interno ok, non ho chiudere gli occhi ancora ok, adesso chiudi lì pure prendo il rosa devo distribuirlo mi chiede lì è vero ciò per esempio lascia lì ok, stupendo, apri un attimo richiudi che faccio anche l'altro occhio ok, lo sfumo un po' con il giallo e vado un po' verso l'esterno ok, e verso fino all'occhio ok, benissimo adesso prendo questa matita prendo questa matita e adesso intanto se la metto all'interno dell'occhio sulla palpebra superiore e poi la intingo un pochino nel viola ti faccio l'eyeliner tipo il mio quindi ok, allora guarda un altro scusami in basso e anche ok, non all'altro lato ne metto anche sotto un po' a po' a po' a ok eyeliner ok, ok ok, and I'm having to look so a little bit perfetto ok, and I'm going to put my eyes on my eyes e adesso direi che ci manca mascara mascara, mascara, mascara rossetto prima metterai mascara questo mascara mi piace tantissimo perché fa le labbra, fa le ciglia super 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 definite delle raddoppia triplica ok, vado a passarlo dimmi gli occhi così semi chiusi, però un pochino aperti ok in questo modo riesco perfettamente a prendere anche l'ordine delle ciglia una punta anche sotto cambia veramente tutto con il mascara e è incredibile la differenza che fa ultimo, ultimo step rossetto anche questo in realtà si adatta al pH delle tue labbra quindi non ti preoccupare se ti sembra troppo caldo, troppo rosso no? no, sarà perfetto per te no, sarà perfetto per te no, sarà perfetto per te l'uomo è perfetto per te no, sarà perfetto per te no, sarà perfetto per te no, sarà perfetto per te perché secondo me sta bene così, è un pochino luminoso, un pochino più naturale. Allora io ho finito, voglio solo toglierti un attimo, ok, l'elastico di sistemo un attimo, di sistemo anche un attimo i capelli. Ok, giusto proprio per sistemo anche il casino, un pochino che avevo fatto. Ok. Io direi che ho finito, intanto ho detto che ho finito anche la tua bevanda e il tuo snack. Io spero davvero con tutto il cuore che tu abbia avuto una bella esperienza qui anche questa volta, che tu decida di tornare presto. Ma grazie a te. Ciao.